Ed eccoci ancora con l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Faggiano, un assessore vicino alla gente. Molto vicino alla gente, molto per la collaborazione di questo grande presepe che presentiamo da oltre 23 anni. Spero di partecipare ancora, di veder crescere ancora di più questo evento. Lunga vita all'Associazione per le Tradizioni Popolari di Faggiano e lunga vita al presepe vivente di Faggiano.